Le regole per rimorchiare ormai sono una scienza. Seguite il mio metodo e imparerete a conquistare qualsiasi ragazza. In sette ore. Giulio, non saltare alle conclusioni. Oh, ma no. Io non so se queste cose che racconti sono rete oppure no. Però voglio rialetrare. Il mondo è pieno di ragazze carine e disponibili. Ciao, sono Ernesto, ti posso conoscere? Vai a cagare. Vedi? Riconquistare un ex è la cosa più difficile del mondo. Se qualcuno se l'è portata via perché ai suoi occhi aveva più valore di te. Sei venuta da solo al mare, sì. Veramente verresti a montarmi le mensole? No, è un test dello zerbino. Se ci tieni veramente a questa ragazza, tira fuori le palle. Smettila subito. È perché piccere la ti dà fastidio. Giulio, non chiamarmi piccere, la te l'ho insegnato io. Con me non attacca. Abbraccia ma stanno... Questi simboli che stai mettendo adesso? Così. Come così? Che significa? Niente. Come niente? Seduzione. Così non vale muoio dalla curiosità. Ecco, brava, muori. Senti, ma se dovessi pensare di scrivermi, no che tengo bisogno perché diciamo anche se non sono bello, una mia nicchia mi vado abbastanza forte. Grazie. 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 Grazie.